Buongiorno e benvenuti a Lion Bull Academy E' un video velocissimo, volevo soltanto ringraziare a tutti voi per il supporto che mi state dando Siamo già riusciti ad arrivare a 430 suscrittori E' veramente tantissime grazie Mi aiutate moltissimo così a piano piano riuscire a prendere questa monetizzazione su YouTube E mi piace tanto vedere che vi sta cominciando a piacere il canale E sta crescendo velocemente E uno speciale ringraziamento a Manuel per avermi donato 50 euro attraverso qua del bottone di donazione Veramente moltissime moltissime grazie E piano piano stiamo più vicini già ad arrivare a quei mille suscrittori E anche a quelle 4000 ore che ci servono Andiamo un po' a vedere quanto ci manca ancora per arrivare lì Andiamo a monetizzazione Siamo già a 429 suscrittori Dice qua già contati E 1119 ore già compiute Appena arriviamo a 4000 ore e 1000 suscrittori Posso già cominciare a richiedere i pagamenti di YouTube Vediamo Poi diremo anche quanto guadagniamo E tutto con questo Perché penso che è una cosa interessante anche per voi Dai un'altra volta Moltissime moltissime grazie Per avervi iscritto al canale E speriamo Spero di potervi aiutare Con questo tipo di canale E migliorare tutti insieme nel mondo del trading Nell'avere più informazioni sull'ETF e la RO E tutto In generale un po' tutto Sto piano piano migliorando il canale Spero che vada meglio e meglio ogni volta Dai ci vediamo dopo ragazzi Ciao